lo faccio vedere i clienti ma qui assolutamente no avrei potuto fare lo stencil completamente decentrato però sono stato clemente cominciamo con le linee intanto lui si stava rilassando per bene linee finite in 224 abbiamo fatto anche i neri lui non si è accorto assolutamente di niente qui aveva caldo l'ho bagnato un pochino per rinfrescarlo ora assicuriamo di una bella pausetta con sigaretta intanto voi potete notare la gente come lo osservava non stava capendo assolutamente niente di quello che stava succedendo grazie prego pausetta finita e finiti anche i colori nel frattempo lui non si è azzardato a dire niente tatuaggio finito